L'esperienza di Corogoccio è sicuramente per me un'esperienza stupenda, sotto tanti punti di vista, anche se dura, perché vivere in Baraccopoli, noi vivevamo in Baraccopoli, io ho stituito Padeale Zanotelli quando lui aveva aperto nel 1990 la presenza dentro la Baraccopoli e quindi sono arrivato poi nel 2000 e sono ritornato nel 2001 perché io ho studiato la mia tecnologia, ho finito la mia tecnologia in Africa, a Nairobi, al Tangasa College, quindi dal 92 al 96 ho lavorato nelle Baraccopoli sia di Corogoccio e sia di Kibera, la più grande Baraccopoli dell'Africa, quasi 800.000 persone, una situazione veramente assurda e Corogoccio era la quarta, piccolissimo dal punto di vista un chilometro quadrato e 100.000 persone, quindi davvero le persone sardinizzate dentro queste baracche in pochissimo spazio e logicamente chi vive nelle Baraccopoli ha già i margini delle città, della società, quindi viene marchiata con un nome di baraccati, di persone marginate, povere e quindi c'è un apartheid economico e sociale ovviamente, questo è chiarissimo ma lo è sempre più in tutto il mondo perché quasi 3 miliardi di persone vive in queste situazioni di Baraccopoli, quindi diciamo quasi che stiamo arrivando a un buon 40% delle popolazioni nel giro in Africa ma certamente pensiamo a quelle dell'America Latina, dell'India e in generale nell'Asia, quindi però per me Corogoccio dal punto di vista umano, spirituale è diventato veramente un laboratorio grandissimo di scoperta della spiritualità dei poveri e della vicinanza di Dio che si incarna veramente in situazioni assurde e lì insomma per me è stato un bagno davvero nella vita della gente povera che mi ha insegnato molto, io quando penso a quando Francesco parla dei poveri parla delle persone che ci possono convertire attraverso loro e ovviamente sono proprio queste persone che io ho davanti con nomi, cognomi, storie persone che già non ci sono più, che hanno fatto un pezzo di cammino anche con me di cui ringrazio il Signore perché davvero ti fanno comprendere che la fede è quella che davvero radica la vita di ognuno di noi se ci crediamo ovviamente perché davvero quello ti trasforma la vita e ti lascia un segno perché capisci che non sei soltanto un cristiano, un uomo cristiano ma sei un cittadino del tuo baraccopolo, del tuo paese e che devi cercare di costruire questo regno anche qui certamente nel mondo e poi per il futuro perché il regno di Dio è più grande di quello di questo mondo però bisogna lavorare qui bisogna coscientizzare qui cercare di far crescere che tutti mettano in pratica quelli che sono i valori del Vangelo della giustizia, della pace della solidarietà dell'impegno insomma noi siamo qui da 26 anni praticamente alla fine degli anni 90 nel 96 praticamente proprio il primo gennaio abbiamo celebrato i 25 anni della parrocchia Personam per i migrati per gli immigrati in quanto tale e appunto man mano che andavamo avanti nella presenza nostra perché quello era il tempo in cui l'immigrazione in Italia cominciava a crescere e nella zona di Castel Volturno appunto qui in provincia di Caserta sul litorale è proprio appunto bellissimo qua davanti a Ischia vicino a Pozzuoli praticamente qua c'era una presenza già massiccia di immigrati soprattutto africani e per noi che siamo missionari per l'Africa praticamente il fondatore nostro di San Daniele Comboni è partito per il Sudan logico che era una sfida vedere la missione di ritorno cioè gli africani noi andavamo in Africa per evangelizzare e qui invece cominciavano a tornare arrivare già un grosso numero di migranti soprattutto africani c'erano anche i polacchi certo gli ucraini ma soprattutto qui oggi come oggi ci sono si dice 40.000 persone 28.000 27.000 28.000 sono registrati al comune ma il resto diciamo così tra virgolette invisibili e la grande maggioranza appunto a un buon 70% sono africani e quindi la nostra sfida è stata questa quindi accettare questa sfida di un ritorno degli africani in Italia e come soprattutto seguirle accompagnarli e quindi il vescovo di Ligenza quel tempo aveva la profezia di aprire questa parrocchia per Soma non trovava nessuno fra i suoi due cesani e quindi la diede poi a noi che di passaggio eravamo venuti a verificare alcune cose e quindi da lì siamo passati ormai circa 12 comune anni che ci susseguiamo per alcuni anni 6, 7, 8 anni qui su queste terre è una terra che ovviamente ha grandi difficoltà la Black and White è nata proprio come figlio di questa presenza della parrocchia perché vedevamo i problemi sociali delle persone che ci seguivamo quindi un asilo nido inizialmente si parla alla fine perché è iniziata nel 2001 la Black and White sono 20 anni ormai ed è una associazione che è fatta anche di gente del luogo africani e italiani che si occupa di dopo scuola prima dell'asilo nido oggi dopo scuola perché i bambini crescono sono già 20 anni che abbiamo visto ragazzi passare qui si parla di un'immigrazione che non è dispersa di passaggio come lo era per esempio a Rosarno a Mezzanone e in tanti altri posti che sono più baraccopoli qui c'è una stabilità di immigrazione da 20 anni da 30 anni qui abbiamo giovani ci sono centinaia quasi migliaia di ragazzi che sono nati in Italia e quindi loro non hanno la cittadinanza quindi è una grande sfida questa è una grande lotta anche per il diritto alla cittadinanza per questi ragazzi che non sono nati né in Africa e nemmeno qui hanno la cittadinanza quindi crescendo hanno grossi problemi perché poi dopo man mano che vanno avanti se non hanno questa cittadinanza italiana poi si trovano svantaggiati in tutti i sensi sia per il lavoro sia per lo studio per l'università e abbiamo già alcuni che hanno ottenuto a contrarre le sculture cioè vuol dire quello che è dimostrare che hanno studiato tutti questi anni in Italia non è facile perché si parla di migranti e vuol dire che hanno anche i loro genitori hanno migrato in Italia o all'estero e sono venuti magari ancora a Castelvorturno qui c'è un enclave dove c'è più sicurezza fra virgolette sicurezza dal punto di vista di persone che non hanno documenti in regola e quindi per questo ci sono questi grossi numeri nel tempo di Salvini come ministro già oltre 600 mila persone hanno perso la loro cittadinanza il permesso di soggiorno e quindi automaticamente si è aumentato questa situazione diciamo illegale per quello che è la legge però chi è illegale sulla terra nessuno è illegale vogliamo anche dare qualche numero per capire anche diciamo la dimensione del fenomeno parliamo dell'area che è quella più emarginata e decentrata che è quella anche dove operate voi se ben ho capito ovvero destra volturno dove leggevo che più del 50% della popolazione è immigrata soprattutto appunto in di origini africane di nazionalità africana e spesso padre Daniele gli immigrati comunque in generale ora non solo a Castelvolturno ma questo lo possiamo come dire ampliare in un contesto nazionale e non solo vengono visti un po' come forza lavoro poi per il resto dalla società spariscono in qualche modo insomma non sono visibili quindi la difficoltà è anche quella e l'impegno soprattutto è anche quello di creare davvero un'inclusione vera quindi non solo a parole il tema dell'immigrazione è un tema molto complesso però c'è da dire che lo sguardo umano non può spegnersi su queste cose ora mi riferisco anche alla sua lettera che lei ha scritto in questo tempo di Natale in cui scrive siamo tutti cercatori della stella ha fatto diverse considerazioni molto importanti però ce n'è una che mi ha colpito diciamo in generale un pensiero generale vorrei soffermarmi con lei su questo concetto ovvero dello straniero visto come una minaccia fondamentalmente e penso anche a quello che stiamo vivendo a quello a cui stiamo assistendo ovvero alla condizione disumana dei tanti profughi intrappolati al confine tra Polonia e Bielorussia certo sì purtroppo poi vengono anche strumentalizzate politicamente che cos'è che ci fa così paura dello straniero perché non riusciamo a vederlo perché c'è sempre come dire questo sottofondo di paura nei confronti di quello che non conosciamo ma certamente il diverso fa sempre un po' paura è stato nella storia questo però nel momento in cui la gente comincia a conoscere a entrare in relazione cadono tanti muri ed è questa la cosa che noi stiamo facendo qua cioè attraverso la dimensione di accompagnamento sia spirituale che umano cercare di fare da ponte fra quello che sono gli italiani e quello che sono poi gli stranieri africani o comunque che siano anche gli ucraini che siano i polacchi che siano le persone che poi vengono usate utilizzate in tantissimi lavori qui che nessuno fa che gli italiani non fanno più perché qui c'è una grandissima problematica del caporalato logico c'è la camorra c'è la mafia nigeriana ci sono tutta una serie di problematiche come hai detto tu complessissime che a livello nazionale ha una sua dimensione ma qui in questo contesto territoriale lo è ancora di più perché qui c'è uno sversamento di tonnellate di milioni di rifiuti tossici qui siamo nella terra dei fuochi una delle tante terre dei fuochi perché oggi il vescovo di donna che è il presidente dei vescovi della campagna ci tiene a dire che oggi la terra dei fuochi non è soltanto l'atto napoletano e il casertano dove sono stati sversati milioni di tonnellate dal fine 90 all'inizio del 2000 con gente sta morendo di cancro sta morendo di tante altre problematiche sia bambini che donne e qui ci siamo dentro tutti che siano italiani che siano stranieri ma oggi ci sono in 70 di oggi italiani ci sono queste terre dei fuochi cioè la camorra e comunque la mafia l'indrangheta quello che sia ci sono una serie di siti nazionali dove vengono scaricati rifiuti tossici e meno tossici ma sono dovunque ma questo non soltanto in Italia ci mancherebbe questo capire che siamo in mezzo davvero una responsabilità enorme dal punto di vista generale sia dei cittadini ma anche dei cristiani l'ha dato sì qui è pienamente radicata incarnata dentro nella storia dell'oggi di tutti noi quindi il migrante in questo caso diventa se vuoi appunto la paura ma allo stesso tempo lo si usa perché lo si usa e lo si riusa perché alla fine è quando hai una concentrazione massima di migliaia di persone non dai l'opportunità neanche a loro di integrarsi e quello che noi stiamo cercando di battici anche insieme ad altre associazioni a gruppi alla carita di capo di caserta ai centri sociali a emergency è proprio quello di riuscire a comprendere che qui ci vuole un piano particolare per questo territorio è un territorio bellissimo che potrebbe avere tante potenzialità per tanta gente italiani e non italiani ma qui l'immigrato oggi in Italia è una risorsa fondamentale ce l'ha detto Boeri stanno pagando 14 miliardi di euro per le nostre pensioni quelli regolari che stanno lavorando quindi se noi partiamo da questo punto di vista di quelli che hanno già un lavoro regolare e pagano i loro contributi e ci aiutano a migliorare la nostra vita soprattutto per i nostri anziani perché questi qui prenderanno i loro contributi quando avranno 65 anni se ci arrivano 65 anni quindi già soltanto partendo da questo ma poi la ricchezza culturale la ricchezza spirituale la ricchezza di quello che è l'umanità io vedo davvero ho visto anche i bellissimi esempi quando le persone incontrano queste e facciamo fare questo passaggio davvero diventano molto più aperte italiani sto parlando e quindi aiutano davvero si impegnano a che la vita di queste persone diventa il migliore e io credo che è questo quello che dobbiamo fare un po' tutti nelle nostre comunità cristiane ma la società in generale iscriviti al nostro Grazie.